C'è un liquido che non ha le proprietà fisiche, ma non ha le proprietà fisiche. E siamo tanti a pensare che può creare delle strutture interne, come una specie di semi di materia, che hanno delle proprietà molto diverse, in particolare che possono mantenere la memoria di alcune molecole biologiche. Vediamo in questa ricerca l'inizio di un disegno, cioè il trovare questi segnali che provengono da nanostrutture dell'acqua ugualmente nel plasma di persone che soffrono di malattie croniche, in particolare quelle dell'HIV e di patologie legate all'Alzheimer, al Parkinson, la poliartrite reumatoide e anche in patologie psichiatriche come l'autismo. Partendo da questo stadio, potremo creare dei metodi diagnostici e forze dei trattamenti. Tutto questo accade perché l'acqua può mantenere le informazioni delle molecole biologiche. E penso che in effetti sia quello che da molti anni è stato trovato un po' empiricamente dall'omeopatia. Grazie.